A volte chi progetta è interessato alla gestione di forza lavoro individuale da assemblare e utilizzare o scartare secondo la convenienza economica. La famiglia è un grande banco di prova. Quando l'organizzazione del lavoro la tiene in ostaggio o addirittura ne ostacola il cammino, allora siamo sicuri che la società umana ha incominciato a lavorare contro se stessa. Durante la catechesi dell'udienza generale Papa Francesco ha continuato a parlare della famiglia mettendola a fuoco nel contesto lavorativo. Il lavoro, anche quello casalingo, infatti è necessario per crescere i figli e per assicurare ai propri cari una vita dignitosa e la perdita di occupazione rappresenta un grave danno sociale. Quando il lavoro si distacca dall'alleanza di Dio con l'uomo e la donna, ha sottolineato il pontefice, quando è in ostaggio della logica del solo profitto e disprezza gli effetti della vita, l'avvilimento dell'anima contamina tutto. In una casa comune che presenta fin troppe crepe, Papa Bergoglio ha così invitato tutti a contrastare una certa organizzazione del lavoro che tende a considerare la famiglia un ingombro per la produttività del lavoro. A quanti si sono radunati in aula Paolo VI, infine, le richiamo che l'impegno del lavoro e la vita dello spirito nella concezione cristiana non sono affatto in contrasto tra loro.